Dejana si presentò annunciando la rivoluzione dei trasporti, lei oggi a due anni di distanza le chiede dimissioni? Sì, chiediamo le dimissioni perché abbiamo capito che è completamente inadeguato, abbiamo fatto una mozione di sfiducia anche perché il suo atteggiamento è stato veramente contraddittorio. Nel 2011 sosteneva la tesi della perfetta legittimità rispetto al quadro operativo europeo della legge 10 del 2010, oggi invece ne sostiene l'incompatibilità. Non è possibile che un assessore tenga atteggiamenti così contraddittori, la Sardegna non può aspettare. Nell'assessore di Pileru è bene che smettano di parlare e iniziano a mettere in campo azioni politiche per sostenere il low cost, per sostenere il Ryanair, per sostenere la continuità territoriale verso i roti minori. Veramente la Sardegna e i Sardi non hanno più tempo e non possono più aspettare.